L'avevate avvisata a questa scorta o no? Questa è la prima domanda che mi viene da fare ovviamente. La scorta la DIGOS anche quando andiamo in bagno, quando facciamo la campagna elettorale, però detto questo... Quindi era stata avvisata? Sì, credo che manifestare le proprie idee, siamo andati lì per dire soltanto che volevamo controllare un campo dove il Comune di Bologna paga 130 mila euro all'anno per le utenze, un campo tra l'altro così temporaneo che ha 24 anni che è su quel territorio e la Regione ne paga appunto le infrastrutture. Ma ormai in Emilia Romagna è così per qualsiasi questione che non si vuole toccare. Sono stato a Brescello circa tre settimane fa dove lì la fa da padrone l'Andrangheta e per andare nel bar di Peppone siamo stati scortati dalla DIGOS e dall'Arba dei Carabinieri perché è un bar frequentato da molte persone legate appunto all'Andrangheta di Cutro. Detto questo, se manifestare le nostre idee, cercare di metterle sotto i riflettori e parlare implica il fatto che dobbiamo essere bastonati o ci devono spaccare la macchina, non siamo più in un paese democratico ma siamo appunto in un paese che chi dice diverso dalla sinistra è qualcuno che non è più tollerato. L'aula Civa sgomberata? Beh certo, subito. Grazie a tutti.